Ciao a tutti! Dopo aver intervistato Alberto, adesso intervistiamo uno dei partecipanti allo stage. Abbiamo qui Riccardo, che ha partecipato a questo stage già l'anno scorso. Buongiorno Riccardo! Buongiorno! Allora, io so che tu già l'anno scorso hai partecipato allo stage con Alberto Zorzi. Come ti è sembrato questo stage? Questo stage è sicuramente molto istruttivo, dato che Alberto è un cavaliere di grande esperienza e soprattutto con cavalli anche difficili che non sono sempre stati collaborativi. Quindi per le persone che devono ancora prendere conoscenza con i loro cavalli nuovi è un'esperienza molto importante e anche per chi ha già confidenza è un'esperienza per consolidare il proprio rapporto, secondo me. L'anno scorso avete fatto un certo tipo di lavoro, quest'anno, degli esercizi diversi, delle cose diverse. Secondo te ti ha aiutato a fare questa evoluzione dall'anno scorso a quest'anno? Sicuramente quest'anno è stato molto importante per me, dato che con il mio cavallo ho imparato molto, ho fatto gare che mi hanno portato comunque a un livello importante di confidenza con lui. Ok. E l'anno scorso gli esercizi erano un po' diversi e quest'anno, dato che il livello dell'allievi si è alzato, sono stati un po' più complicati e un po' più precisi da svolgere. Perfetto, ma di tutti gli esercizi che avete fatto ieri mattina ho visto che ce n'era uno super difficile, quello in cui dovevate arrivare in diagonale e saltare l'ostacolo in diagonale. Puoi raccontare un po' come è stato questo esercizio? Questo esercizio, secondo me, con il mio cavallo è molto importante perché io non ho ancora il pieno controllo della direzione con lui, perché magari tendo dopo i salti a cadere all'interno. Quindi la barriera sarà molto utile perché ti obbligava a comunque mantenere la direzione precisa e credo sia un esercizio che per questo tipo di cavalli e per i cavalieri che ancora non hanno molta conoscenza e molta esperienza sia molto utile. Ho notato anche una cosa molto particolare, Riccardo, che tu sei stato l'unico, uno dei pochi, che è stato anche a vedere tutta la giornata gli altri cavalieri, nonostante il freddo. Come mai ritieni sia importante comunque vedere anche gli altri cavalieri a cavallo? Ritengo sia importante perché ogni cavallo ha le sue peculiarità, i suoi pregi e i suoi difetti e più tipi di cavalli si vedono, più si può imparare col proprio a risolvere i problemi perché essendo che ogni cavallo è diverso, ogni cavallo ha le proprie risoluzioni e riuscire a imparare come risolverle è molto importante. Molto bene, quindi ti lascio andare perché so che devi preparare il cavallo per la seconda parte dello stage e verremo sicuramente a vederti a cavallo. Grazie mille. Ciao a tutti, a dopo!